Alessandro Orapezzi, responsabile CGL regionale per la scuola, quali sono i numeri toscani? Allora, circa mezzo milione di alunni riprenderanno la scuola da oggi in poi, di questi 12 mila sono gli alunni disabili, parliamo di oltre 40 mila docenti che entreranno in servizio in questi giorni, di questi 40 mila noi dovremmo aver fatto a questo punto dell'anno circa 3.500 assunzioni previste dalla legge 107, in realtà alcuni di questi posti purtroppo rimarranno vuoti, soprattutto nel settore del sostegno e nel settore delle aree scientifiche, delle discipline scientifiche per mancanza di candidati, perché noi abbiamo questo strano fenomeno per cui su alcune aree di concorso sono deserte e avremo bisogno di aprire la possibilità di assunzione anche a quelli cosiddetti di seconda fascia, che comunque hanno oltre tre anni di insegnamento e che comunque hanno le abilitazioni. Andiamo a dare comunque in Toscana oltre 7.000 supplenze annuali e noi stiamo parlando non di supplenze su malattia, ma stiamo parlando di supplenze su posti vuoti, posti che servono comunque a garantire il normale funzionamento della scuola. A dicembre, per effetto della legge, potrebbero arrivare in Toscana altri 3.000 insegnanti che potrebbero andare ad arricchire l'organico delle varie scuole, con una media che va tra i 6-7 docenti e i 10-11 di media per istituto, in base al numero degli alunni. Però accadrà un fenomeno che probabilmente quelli riceveranno sempre a livello nazionale la proposta d'assunzione, la accetteranno, ma se lavorano già in una delle supplenze annuali che avranno preso, perché hanno bisogno di mangiare, questi posti rimarranno vuoti, per cui questo sarà un anno di prova e noi avremo bisogno davvero dentro le scuole di tenere aperto il confronto.